è caduto su questa aiuola lo hanno trasportato all'ospedale ma le cure dei sanitari sono risultate vane lascia la moglie e due figlie 15 dicembre 1969 l'anarchico Giuseppe Pinelli muore dopo un volo dal quarto piano dalla questura di Milano per circostanze mai sufficientemente chiedite la morte avviene durante un interrogatorio sulla strage di Piazza Fontana interrogatorio a cui Pinelli è sottoposto dalla squadra del commissario Luigi Calabresi